Etichetti Un bel mommentre Un bel mommentre Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi e tra minacce avverte un'autorità, ci facciando a due promettere che la cosa resti là. E tra preghi e tra minacce avverte un'autorità, ci facciando a due promettere che la cosa resti là. E si fatto scioglimento poco appena il trarimento, riflettete in mia sorella. Vada fuori di casa mia, vada fuori di casa mia, altri patti non vuoi fare. E' un affare delicato, 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 vuol benesser ponderato, ponderato, ponderato. Ponderate, esaminate, in mia casa non la voglio, no, no, uno scanto. Farevo l'imporre e vergogna, poi ne avrete, non l'imporre. Non sta bene, non sta bene, altro modo, altro modo cercherò. Non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo, ma lo schiaffo qui restò. Io direi l'ho trovata, benedetta, dite, dite, dite presto. Nel boschetto quatti, quatti ci appostiamo, e da tutto dir possiamo. Se è costante il tradimento, la cacciata sui piedi. Di mei dia, da tutto dirò, no, una cacciata sui piedi, di 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 inserito, ma lo schiaffo qui restò, po' di uomo. Già, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutto in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovane, con i teneri sospiri e lacrime, sorrisi e lacrime, vedrai se giovane, vedrai se giovane, sorrisi e teneri, sospiri e lacrime, or voglio prendere la mia rifingita, or voglio prendere la mia rifingita, se nella trappa dovrà restar, se nella trappa dovrà restar. La mia vendetta è già raggiunto, tutto in un punto l'hai da scontar. Tutto in un punto l'hai da scontar. Tutto in un punto l'hai da scontar. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che lo aspetta, in vano freme, in vano arrabbia, si è chiuso in gabbia, non può scappare. In vano accumula, progetti calcoli, in vano accumula, progetti calcoli, non c'è che fabbrica castellinaria, non è del semplice, non è del semplice, che nella trappola da semidesimo, si è della trappola da semidesimo, non è del semplice, che nella trappola da semidesimo, se non c'è di far. In vano freme, in vano arrabbia, se è chiuso in gabbia, non può scappare. E se è chiuso in gabbia, non può scappare. Se è chiuso in gabbia, non può scappare. La cacciata è su dei piedi, e l'aperto via cammento. Quatti, 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 ci appostiamo. Ci appostiamo, tutto, 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 tutto. Comunire possa far In ranua, se giovane, raggi decavoli, sorrisette, neri sospirella, che mi vede se giovane, se giovane, sorrisette, neri sospirella, per volio prendere, neri vincito, se non la trappola, se vengito, se ne ha trappolo, 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 aspetta, 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 in vano arrabbia, c'è chiuso in gabbia, ne ha scappar, aspetta, 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 as Ha 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 ha! L'idea sta par!